Quello in cui più credo è che siamo degli esseri umani, a prescindere dall'involucro che ci contiene. Francesca è l'antitesi della leggerezza, ma fluttua nella sua presenza. Coraggiosa nella risata, come nei colori. Bella, come solo il coraggio può truccarti. Francesca la senti, è tiepida e liscia. Francesca è nettare, che sa di marshmallow, olio per capelli e fiori preziosi. Quando ho pensato ad Uncover, uno dei primi volti che mi è venuto davanti è stato il tuo. Per tutta una serie di motivi, ma soprattutto per il sentito che io ho avuto nei tuoi confronti quando ci siamo conosciute. Per la tua pelle, per la tua vicinanza proprio in realtà. Io ho veramente la sensazione di te che mi trucchi, perché così ci siamo conosciute. E di sentirmi a casa dentro quelle mani, non so, la tua accoglienza come persona, nella tua pelle, nel tuo corpo. Andando poi a guardare nel tuo profilo Instagram, non avevo seguito e mi è venuta fuori la campagna che hai fatto, Don't be shy to shine. A un certo punto trovi il tuo coraggio di brillare. Sì, è stata una campagna abbastanza intensa, più che da un punto di vista proprio della realizzazione, del mettersi in gioco. Proprio il coraggio di metterci la faccia, un po' in quello che dici, in quello che porti avanti, in quello che professi, passami il termine. Di finalmente dire sì, lo dico, ma lo faccio anche. Quindi dare un'immagine, un impatto molto visivo alle tue parole. Credo che sia un seguito pazzesco, però è stato intenso, tanto. Da quando me l'hanno proposto, a quando ho detto sì, i sentimenti, le emozioni sono state tantissime e molto contrastanti. In primo momento, quando i miei colleghi me l'hanno proposta, ho detto, non sono la persona giusta per farlo. E gli si è cominciata una serie di perché non sono la persona giusta per farlo. Ma perché non lo vuoi fare? Cosa ti blocca? Di cosa hai paura? Cosa invece ti spingerebbe a farlo? Quindi c'è stato tutto dietro un processo, di parlarne con loro, di parlarne con la mia famiglia, perché comunque era un aspetto a cui tenevo tantissimo, non perché io debba avere la loro approvazione, ma perché sono molto interessata a loro parere. Quindi avere il loro ok, il loro essere sereni su questo punto di vista, e poi avere il mio ok, che è stato l'ok un po' più difficile, che ha attraversato varie fasi di ma quali saranno le reazioni degli altri, come mi vedrà la gente con cui lavoro, come mi vedrà la gente che mi ha vista crescere, quindi tutte le persone che compongo nel mio mondo, cosa diranno di questa cosa? E sono stati tantissimi pensieri. Poi ad un certo punto ho detto, beh sì, basta, sa da fare, così è e così sarà. E poi devo dire che è stato veramente intenso il giorno in cui è stata scattata, e le emozioni arrivate dopo, quando poi la campagna è stata pubblicata, sono state tantissime e fortissime. Certo, immagino. Nel tuo profilo Instagram parli e scrivi di quello in cui credi, dici proprio, io sono Francesca, voglio lottare per quello in cui credo, non mi interessa se mi chiamano cicciona perché effettivamente lo sono. Mi viene da dire in cosa crede Francesca, qual è il tuo punto fermo? Quello in cui più credo e che vorrei trasmettere alle persone è che siamo. Siamo degli esseri umani a prescindere dall'involucro che ci contiene. Siamo emozioni, pensieri, azioni, come ci rapportiamo agli altri, quello che facciamo. Siamo tutt'altro rispetto a quello che mostriamo agli altri. Quindi è bello avere un bell'involucro, sicuramente. e viviamo in una società in cui se sei bello sei privilegiato, nella maniera più assoluta. Però tutto quello che c'è dentro compone la tua bellezza. Che sembra una frase un po' scontata, un po' fatta. Ma non è. Però avendo avuto a che fare anche con tantissime persone nella vita, andare oltre le apparenze che ti bloccano spesso, che ti fanno dire beh ma questo mi sta simpatico, questo mi sta antipatico, questo è brutto, questo è bello, questo ce la può fare, questo non ce la può fare. Abbattere la prima barriera è capire le persone, dargli una possibilità a prescindere da come si presentano al mondo. Cercare di capire cosa hanno da dirti, cosa hanno da trasmetterti. Quello credo che sia una delle cose più belle che tu ti possa regalare e che possa regalare agli altri. Ed è una delle cose in cui credo assolutamente di più. Credi quindi in tutto quello che nel mondo di oggi, nella nostra realtà, viviamo con una società che si dice pronta ad accettare i corpi diversi. Parliamo di tutto questo mondo che ci racconta che il mondo del fat è assolutamente normale, che dovrebbe esistere una giustizia sociale nei confronti di tutta questa roba qui, ma poi molto probabilmente non è davvero così. Ci raccontiamo una bella storia, mi viene da dire, no? Perché se te ad oggi mi dici che siamo altro oltre il nostro involucro, molto probabilmente se vivessimo in una società che non ci fa pensare all'involucro come diciamo che non dovrebbe essere, questo pensiero non ci sarebbe, no? Assolutamente no. È un credo, è una cosa in cui credo fermamente e che cerco di trasmettere perché la società non è per nulla pronta all'accettazione. Si fa tanto sui social, in tv, si è sdoganata la parola curvi, che vuol dire un po' tutto, un po' niente. Io lavoro nella moda, nella moda la parola curvi è una modella fatta bene, con le curve al punto giusto, che però viene considerata normale dalla società. Cioè, una modella curvi fa una taglia 46, io non faccio una taglia 46. E la gente continua a guardarmi, non male, ma strano per strada, perché non è un corpo normale il mio, perché è normale essere una taglia 40, perché è socialmente accettato essere una taglia 42, e se una taglia 52 fa storcere un po' il naso. Si fa tanto, ma credo che non sia ancora abbastanza, perché se io ad oggi sto bene, non vuol dire che è sempre stato così e non vuol dire che non ci siano ancora stimoli esterni dopo un passato che mi ha usato abbastanza come pungible. Certo. Quindi ho imparato a reagire agli stimoli degli altri, ma non tutti riusciamo ad imparare, non tutti ce la facciamo e non è giusto essere privilegiati o meno per i chili che si portano addosso. Nel tuo corpo, che riconosci assolutamente come diverso, passami il termine, ti piacerebbe o ti potrebbe aiutare di più il fatto che sia riconosciuto come diverso e accettato, oppure credi che sarebbe migliore l'idea dove veramente non c'è differenza, dove nessuno in giro per strada ti guarda in un certo modo. Secondo te la normalità, l'accettazione dove sta? Secondo me l'accettazione sta nel pensare che siamo tutti diversi. Perché è inutile dire, no vabbè ma siamo tutti uguali, siamo tutti diversi. Chi perché ha dei chili in più, chi perché è più alto, chi perché è più basso, chi perché ha capelli rosa, chi perché ce li ha castani. Quindi per me la normalità dovrebbe essere l'accettazione della diversità, perché la diversità c'è, esiste, siamo tutti esseri unici. L'accettazione di ogni individuo per quello che è e non per quello che mostra di sé. Credo che sarebbe la cosa assolutamente più bella dal mio punto di vista. Senti Franci, parliamo di accettazione dal punto di vista di chi sta fuori, delle terze persone, della società nei tuoi confronti. Poi c'è l'accettazione di te stessa. Io mi dico sempre che in fin dei conti siamo chi siamo quando rimaniamo soli. E non è essere soli a casa, perché dentro una casa c'è una famiglia, c'è un compagno, ci sono dei figli. Quando chiudo la porta del bagno rimango sola con me stessa. E forse è l'unico momento in cui sono sola e faccio i conti con me stessa, con la percezione di me stessa. Com'è quella percezione? È cambiata negli anni e non è stato facile. Credo che accettarsi e non farsi accettare è il passo più difficile. E accettarsi per me non vuol dire sono grassa e vado bene così, non devo fare nulla per migliorarmi. Accettarmi vuol dire sono questa, in questo momento, vivo in questo corpo, devo fare di tutto per starci bene. Che non vuol dire che io amo i miei rotoli di ciccia e che sono felice del mio doppio mento. Nella maniera più assoluta sono Francesca. Il doppio mento c'è chi se ne frega se io do altro. Perché io do altro. Quindi io sono consapevole di essere grassa. Se la gente mi dice che sono grassa, è vero. Non peso 20 chili. Io gli specchi, se li ho a casa, io lo vedo che non faccio una taglia 42. Però il mio essere grassa non condiziona quello che poi sono. Ha condizionato come sono cresciuta. Ha condizionato sicuramente come ho processato e come ho affrontato certe cose. Ma non condiziono ad oggi quello che dico, quello che provo, quello che sento. Quindi ok, sono grassa. Voglio migliorarmi. Ci sono momenti in cui mi metto a dieta, perdo dei chili, sto meglio. Ci sono momenti in cui per n variabili riprendo peso. Non per questo devo sentirmi in colpa. Quindi secondo me il processo di accettazione è proprio la parte in cui ti scopri di più e che fai più fatica a processare. C'è la parte più difficoltosa perché non è che un giorno ti alzi e dici beh, sono grassa, che bello, io mi amo così. E se sono grassa mi rispetto perché sono un essere umano al prescindere dall'amarsi devo rispettarmi. E questo secondo me è il punto fondamentale. Hai detto una parola adesso che mi fa venire in mente una domanda alla quale se hai voglia mi rispondi, se no andiamo avanti senza nessun problema. Hai parlato di amore, no? Io sono da quest'altra parte, è inutile che ti neghi che parlando con te, quando si parla di intimità, di tutta una serie di cose, noi ci siamo parlati anche in altri momenti, no? Esiste tutta quella sfera del sesso, dell'intimità, quello che viviamo un po' tutte perché in realtà tutti abbiamo il problema della nudità, il problema del gli piacerò abbastanza, non gli piacerò, in questa maniera va meglio, in questa maniera va peggio. È la stessa cosa per te? È un fattore elevato alla potenza? È qualcosa con cui convivi da sempre? Cosa succede? Il motto principale è chi se ne frega. Nel senso che è arrivato a un certo punto, proprio perché mi rispetto, io sono questa e una persona con cui sto deve rispettare chi sono, a prescindere da qualsiasi cosa, quindi se io per prima mi rispetto, esigo rispetto agli altri, ciò fa sì che le persone con cui mi relaziono siano pienamente coscienti di quello che troveranno una volta tolti i vestiti. Le ansie ce le abbiamo tutte, l'ansia di spogliarsi, l'ansia dell'intimità, della nudità, del rapporto intimo con un'altra persona, credo che ogni donna ce l'abbia, il problema è che ci sia la luce spenta, penso che una volta nella vita sia passato più o meno per tutti, però ad un certo punto dici, chi se ne frega, non sono uscita fuori da nuovo di Pasqua e non sapevi cosa ti si sarebbe presentato stasera a cena. Eri pienamente cosciente che arrivava una persona che ha un certo peso, ha delle certe forme ed è così, per carità, i vestiti nascondono, mascherano, io poi amo cambiarmi, amo vestirmi, quindi sono pienamente cosciente di come far sparire il rotolino, di come accentuarlo, di come essere un po' più scollata, però lo vedi come una persona, quindi se tu per prima rispetti te stesso e cerchi rispetto in un partner, credo che certi limiti cadano un po', te ne freghi tendenzialmente, cioè io ripresa dal basso sono decisamente più brutta, però amen, cioè nel senso, purtroppo non è un set, non c'hai le luci, non c'hai la videocamera, non ti puoi girare a farti il selfie nella maniera migliore, ci sfacciamo un po' tutti e amen, va così, te lo godi. Parli di tutta una vita, no? Prima dici oggi le mie forme, il mio grasso ha cambiato come sono cresciuta, mi hai raccontato di aver vissuto come viviamo tutti, in questo penso che ci sia abbastanza giustizia sociale, il discorso del bullismo, dell'essere presi in giro, di tutta una fascia di età che non ci risparmia dalla sensibilità che magari si spera di trovare man mano che le persone crescono, no? A un certo punto scappi, mi hai raccontato della scuola di Sciacca e vieni a Milano. Mi piacerebbe sapere, no? Quando pensi all'arrivo a Milano, quello per te è stato più uno scappare, un trovare una realtà invece madre di questa tua nuova vita, cosa vedi in Milano e nella tua terra madre? Allora vedo sicuramente di base una realtà più grande, io vengo da una realtà molto molto piccola, da un paesino veramente piccolo, ho frequentato fino all'adolescenza e fino alla maggiorità degli ambienti, dei paesi molto piccoli, molto ristretti. Io cercavo qualcosa che la mia vita in quel momento non mi stava dando, avevo sicuramente degli ottimi amici, una bella famiglia, avevo un sogno che era quello di fare la truccatrice e da lì ho detto basta, io qui non mi ritrovo, non trovavo me stessa, ero alla perenne ricerca di me stessa e non riuscivo a trovarmi in quello che facevo. Ho scelto un percorso e un posto lontani da casa sicuramente, sia fisicamente ma anche proprio lontani dalla concezione di vai fuori, vai a fare un'università, fai un percorso molto regolare. Il mio era un percorso abbastanza diverso rispetto ai miei coetanei in cui non tutti credevano, in cui io cercavo di credere il più possibile perché gli altri avessero fiducia in me, ma avevo soprattutto bisogno di lasciarmi alle spalle quello che era stato il periodo del liceo. Non cancellarlo, perché comunque nel bene o nel male mi ha reso la persona che sono, però avevo proprio bisogno di un taglio netto, di ricominciare, di ritrovarmi in un posto che fosse un po' più su misura. Non che Milano sia il paradiso, non lo è. La gente ti guarda male per strada comunque. Io poi all'essere grassa ho aggiunto i capelli colorati, una personalità non proprio discreta, quindi bella impegnativa. Però la metropoli ti fa essere da un lato più isolata, che può essere un aspetto positivo o un aspetto negativo. Un aspetto negativo perché per forza ti senti più sola. Un aspetto positivo perché sei te stessa in diverse occasioni. Ti nascondi meno perché sei meno vista, sei meno al centro dell'attenzione, in un ambiente più grande. Poi le cose vanno avanti, ti formi le tue realtà e torni un po' al centro dell'attenzione. Comunque io ho fatto un'accademia, poi ho cominciato a lavorare, poi ho iniziato un altro lavoro e ti crei di nuovo delle piccole, medie o grandi cerche in cui ritrovi un po' i meccanismi di quelli che potevano essere le cerche precedenti. Però le affronti in modo diverso, le affronti con la consapovolezza di essere cresciuta e di aver trovato un po' il tuo posto nel mondo. Per trovarsi bisogna scomparire, no? Sì. Che solo con te stessa ti ritrovi, qualsiasi sia la tua dimensione. Devi perderti. Devi perderti. Perché fin quando sei alla ricerca, in un posto che consideri casa, con le persone che consideri casa, non riesci a staccare, non riesci a vedere né fuori né dentro. Nel momento in cui lasci un po' la presa, riesci a capire, riesci a fare un po' di analisi che non finisce mai perché tuttora comunque ci sono dei commenti, delle situazioni che un po' arrivano, fanno meno male, ma un po' arrivano. Però li vivi quasi come da spettatore. Dici, è un tuo commento, è un tuo parere, è un tuo giudizio. Io adesso sono altro. Vuoi pensare così? Infatti tu hai. Io adesso sono altro. Non mi tocca. Sì, sì. È quello. Sì, le persone, secondo me, è una mia... Adesso mi viene avanti questo pensiero, no? Il fatto di essere sempre costantemente online, sempre costantemente pronti a commentare, sempre costantemente pronti a giudicare in qualche maniera. Forse veramente è semplicemente un modo per proteggerci, per schermarci, per non aver modo di guardarsi dentro, no? Prima di perdermi trovo compagnia, cerco compagnia in qualsiasi modo. Credo di sì. Io ti vorrei fare un'ultima domanda, che è un po' quello che racconta il concetto di Uncover. Il concetto del galleggiamento. Ho sempre pensato che il galleggiamento non sia una cosa... un'accezione negativa del termine. Il galleggiamento come io mi sostengo, io sto a galla nella mia realtà. Se ti guardassi indietro, da quando sei bimba fino ad oggi, c'è stato un momento, e se sì, qual è stato, in cui hai detto, ok, sto galleggiando, cioè, ho preso le misure, ci sono, so chi sono, so dove devo andare. Credo ce ne siano stati un paio di momenti, e si riferiscono tutti alla vita iniziata a Milano. All'inizio mi sentivo un po' a negare. Era un momento diverso, e per quanto avessi una classe meravigliosa, degli amici su cui contare, una famiglia molto solida alle spalle, annegavo in me stessa, annegavo in quello che mi circondava, annegavo in quello che mi arrivava. A Milano sì, mi sono sentita galleggiare un paio di volte, e la più recente è stata quando mi sono resa conto di ciò che stavo ottenendo con le mie gambe. Quando mi sono resa conto di come la percezione, anche nelle persone che conoscevo, la percezione che avevano di me stessa, si è cambiata anche negli altri. Sia per quello che facevo, che stavo costruendo da un punto di vista lavorativo, perché ormai quando torno a casa sono la milanese che trucca le modelle, sia proprio da un punto di vista di rapportarmi agli altri. Mentre prima ero molto più insicura, avevo molto più paura del giudizio degli altri, è arrivato un momento in cui ho detto, io mi spongo. Se poi arriva il giudizio, ci faremo pace. Quindi è stato quel momento di dire, ho trovato un equilibrio. Sono riuscita a mettere un filtro tra il mondo esterno e quello che mi arriva. E questo filtro credo sia stata la prima arma di galleggiamento, di rimanere in superficie e di cercare di non andare mai più giù. Poi ci sono i momenti in cui vai giù. Però saper discernere una critica costruttiva da chi vuole soltanto dare un'opinione, una richiesta, è stato il modo in cui ho detto, questa cosa mi interessa, posso prenderne il lato positivo, farla mia, a questa cosa è veramente nulla, non mi interessa e va bene tutto il resto. Quello è stato il momento migliore ed è successo abbastanza recentemente negli ultimi anni. Io per il momento ti ringrazio, ricordo con molta chiarezza la sensazione che mi ha dato conoscerti e è stata rivelatoria oggi nelle tue parole. Il nettare di Francesca, ho capito, è quello in cui crede, quel credere nell'essere umano oltre l'involucro. Francesca oggi ci lascia in credito una carezza di fronte allo specchio, una carezza vera, che solo se ti ami riesce a darti. Perché esiste forse qualcuno capace di amarti più di quanto non possa farlo tu stesso?